amici di milan.soccer buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento a terrazza milan abbiamo voluto iniziare questa mattina con una sigla una sigla storica una sigla che richiama la cinematografia mondiale sì perché ora parleremo di una novità assoluta prima però vi chiedo di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi numerosi al canale per poter rimanere sempre informati su quello che succede nel mondo rosso nero cose di campo cose fuori dal campo insomma tutto ciò che è milan dunque stamattina abbiamo iniziato appunto con la sigla di cui ho detto e la copertina è una testimonianza di quanto sta per accadere sì perché una delle novità che di cui parleremo è proprio quella che sta per uscire sta per uscire il film dedicato al milan è una cosa particolare una cosa nuova abbiamo messo una sigla della metro goldmeyer ma in realtà il film è un'idea un prodotto è stato voluto da da zona ci arriviamo proprio adesso e così sapremo dove poterlo andare a vedere prima però lasciatemi dire che oggi è giornata di festa come dico sempre giornata di festa perché si gioca questa sera alle 18 e 45 in quel di san siro lo stadio del milan e dei campioni d'italia gioca la si gioca la champions league milan dinamo di zagabria ci sono delle novità ovviamente in vista perché perché qualcosa qualcosa viene ritoccato stefano pioli nella conferenza stampa di ieri diciamo che ha dato una chicca una chicca una chicca molto molto particolare dunque la probabile formazione ve la leggo così vediamo quali possono essere queste modifiche magnan calabria caloluto morite hernandez tonali benasser al centro salema care braim leao giru dunque c'è solo questo ballottaggio c'è l'idea che comunque il mister vorrebbe 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 la figura di braim diaz oggi anziché quella di decatelare decateler che dir si vuole ma attenzione perché ad un certo punto potrebbe girare in testa al buon mister dipende da come va la partita potrebbe girare in testa al buon mister se non oggi forse anche contro il napoli di schierare ascoltate bene decateler come punta lui nella conferenza stampa di ieri l'ha detto ho visto diversi video l'ho provato forse anche in allenamento e devo dire che con la benedizione di ibrahimovic che stamattina parlato dicendo che non molla non molla non molla non molla adesso vi mettiamo anche a fine video quello che abbiamo pubblicato l'altro giorno non molla e comunque alla benedizione anche come attaccante da parte di slatan che dice decateler è proprio un gran talento ma staremo a vedere perché questa sera bisogna fare punti ma bisognerebbe farne tre di punti perché le cose ad un certo punto si mettono bene ma è un attimo che possano come dire sfuggire di mano quindi tutti pronti per la grande serata il gran galà di san siro ma torniamo 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 a film stavamo bene insieme stavamo bene insieme è il titolo del film che possiamo andare a vedere al cinema dal 13 al 16 ottobre è un film un documentario film se vogliamo dove dentro sentite che roba ci sono ambrosini gattuso in zaghi quello vero non il fake nesta e pirlo e dunque grazie a da zon e questa volta fatto le cose che piacciono a noi in questo in questo video si ripercorre il grande milan quello che ha disegnato la storia quello che ci ha fatto sognare ma che ha cambiato il mondo del calcio il milan di cui tanto ancora si parla il milan leggenda il milan che va fatto vedere ai bambini per poter far capire loro cosa oggi non è più il calcio in generale ieri sera tra l'altro guardando la champions league in alcuni tratti mi sono domandato come possa la serie a competere con certi certe squadre dicevo forse forse uso sempre il condizionale il milan può in qualche modo essere ancora in questo contesto comunque non sentirsi adeguato inadeguato in questo contesto ieri tra l'altro un dato statistico scusate mira serena mi fa capire quanto importante sia stato il lavoro di paolo maldini france football che è il lente che assegna ogni anno il pallone d'oro ha inserito il milan tra le sei squadre con più nominati al premio appunto del pallone d'oro ci sono due giocatori ovvero raffaele au e meg magnan solo due hanno più giocatori e sono il real madrid del liverpool quindi in questa speciale classifica di giocatori nominati per il pallone d'oro tra l'altro mi dispiace dirlo ma secondo me andava inserito anche teo hernandez il milan è terzo quindi il real madrid liverpool e milan quindi quando si parla di grandi squadre bisogna considerare che si sono piene di talenti sono pieni di top player come si dice ma in questo momento in italia ditemi voi quale altra squadra può vantare tre top player il cui valore supera dico i 60 milioni solo perché megnan fa il portiere ma se andate a prendere le au siamo sui 140 150 quanto lo dai via megnan dicono sui 60 70 e sei a 220 milioni e poi c'è teo hernandez che sotto gli 80 non li dai quindi siamo a 300 milioni valore del milan si è probabilmente dico decuplicato per non parlare dell'affare di calo lu quindi in questo senso il milan non sfigura in questo contesto che è quello delle big europee bisognerà vedere se tutto ciò si può tradurrà in gioco in risultati ma come si dice lo vedremo solo vivendo per lo meno fino a questa sera quando il milan giocherà milano dinamo di zagabria bene per questa giornata per questa mattina è tutto se ci sono novità ci vediamo durante il corso vi lascio con dei video interessanti per proseguire la visione di terrazza mila baci ciao